Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi 8 marzo, ore 11.05 di mattina. Allora, ieri, 7 marzo, sono passati 20 anni dalla morte di Stanley Kubrick, grandissimo regista di vari capolavori, tra cui Arancia Meccanica, Orizzonti di Gloria, Spartacus, il Dottor Stranamore, Barry Lyndon e così via. Volevo fare questo video in suo onore al suo ventennale dalla morte. E niente, ci vediamo alla prossima.